L'interiorità e l'esteriorità, lo spirito e le cose, le idee e i sentimenti, sempre nella storia della nostra esperienza cristiana ma anche umana, abbiamo fatto fatica a tenere insieme, a viverle nel loro intreccio, anche nella loro complessità. In particolare nell'esperienza della fede abbiamo vissuto l'esplosione della bellezza delle forme, delle immagini e quindi la cura per i luoghi e per i tempi della vita della fede. Ma ci sono stati anche momenti in cui, con la pretesa di arrivare all'idea, al concetto, al concetto puro, al concetto giusto, all'idea chiara, da cui dedurre quasi come da un principio i comportamenti da tenere, la fede cristiana è diventata astratta. Non è esente da questo anche un momento che abbiamo vissuto a metà del secolo scorso che si chiama il momento della demitizzazione. Cielo, terra, angeli, demoni, inferno, paradiso. Sono stati linguaggi pieni di immagini ma che abbiamo avuto la pretesa di demitizzare e abbiamo esistenzializzato dicendo che le cose riguardavano più la volontà, le decisioni dell'uomo, riguardavano più i contenuti che queste forme. Forse oggi viviamo un momento in cui c'è un recupero del valore della forma perché i concetti astratti, abbiamo scoperto, non attirano nessuno, non sono affascinanti, non suscitano emozioni. Lo spirito, l'interiorità senza le cose fa rimanere l'uomo nella sua solitudine, nella solitudine della sua interiorità, lo relega così. E allora i luoghi della Chiesa, i luoghi che la Chiesa si è costruita per vivere i suoi momenti comunitari e quindi per vivere bene nello spazio, i tempi della Chiesa, cioè le feste, sono momenti decisivi per la nostra esperienza di fede che è un'esperienza di fede storica che è legato all'avvenimento e non all'idea stratta, al principio. La fede cristiana nasce proprio da un avvenimento che è accaduto sempre in un tempo e in uno spazio, per questo che sono nate feste, per questo che sono nati i luoghi, i cippi, gli altari, i templi, le nostre cattedrali, le nostre semplici chiese. Quindi i luoghi e i tempi salvano, quindi le feste, i luoghi sacri, gli edifici di culto salvano la fede dall'astrazione e l'astrazione non attira nessuno. Allora la forma bella, la bellezza della forma rende anche persuasiva, attraente, appassionante il credere e ci fa cogliere meglio la bellezza della rivelazione cristiana. Allora non solo la parola ma anche il suono della parola, non sono le idee ma anche le cose, parola, cosa, spirito. Questa è l'esperienza religiosa cristiana. Quindi fin dall'inizio l'esperienza di fede che nasceva da un incontro che accadeva in un luogo, in uno spazio, che accadeva in un tempo, che è un avvenimento, ha sentito il bisogno di darsi una forma, una forma bella. Ecco, qual è stata la genialità quindi soprattutto del cristianesimo? Di questo ci interessiamo nel nostro percorso, la genialità nel costruire questi luoghi. Direi che la genialità la si può cogliere meglio se la rapportiamo al tempio greco. Subito all'inizio la chiesa cristiana ha detto che il luogo in cui si incontrava il mistero di Dio era il corpo umano e quindi si trovavano in assemblee anche nelle case. La presenza di Dio era il corpo umano che si univa ad altri corpi e diventava un solo corpo che è la chiesa. Allora qualsiasi luogo all'inizio poteva essere luogo di incontro e di esperienza del divino. Ma nel confronto con i templi greci, questi edifici della divinità, la chiesa sente poi il bisogno di costruire anch'essa dei luoghi specifici per dire da una parte la sua vicinanza all'esperienza umana, dall'altro la sua novità, la sua singolarità, la sua differenza. Però si distingue subito, ecco la genialità dal tempio greco. Come era costruito il tempio greco? Il tempio greco era la casa della divinità. La divinità abitava all'interno e il popolo rimaneva all'esterno, lo circondava, non poteva mai entrare. Il luogo dentro era il luogo della divinità. Anche il tempio di Gerusalemme un po' aveva questa caratteristica. Nella Sancta Santorum si entrava solo una volta all'anno e soltanto una persona poteva entrare. Le persone si disponevano negli ampi cortili che erano suddivisi secondo un ordine. Invece il cristianesimo, proprio a partire, ecco la genialità, dalla centralità del corpo umano e dei corpi che formano un solo corpo, ha pensato di trasformare il tempio greco e prendere come modello la basilica. La basilica era la casa dove nella cultura romana si trovava il popolo intorno ai suoi capi. E cosa ha fatto? Ha portato l'esterno nell'interno. Il tempio greco, che era abitato all'esterno perché all'interno c'era la divinità, diventa il luogo dove si entra. Ecco, la divinità è nel corpo, è nel popolo, è nell'assemblea, quindi è presente quando l'assemblea è riunita. Quindi nella basilica si entra. La basilica è un luogo ampio perché riuniva tutto il popolo, non è una semplice casa per pochi, per un piccolo gruppo, per una minoranza, ma è un luogo ampio che può ospitare tutti. Il nostro Dio, il Dio dell'amore, è presente nel popolo riunito. Quello che era prima un'esclusione diventa un'apertura, un'accoglienza, un'ospitalità e la divinità manifesta la sua presenza in questi luoghi. La basilica quindi all'inizio. Se noi osserviamo la nostra città vediamo che il campanile più alto, quello che si impone nella nostra città è quello della cattedrale. E qui siamo già in un'altra genialità del luogo cristiano perché questa genialità del luogo cristiano si è sempre evoluta in base all'esperienza umana e la vita sociale. La cattedrale. Ecco, il luogo dove c'è la cattedra del vescovo, la cattedra, è diventa il luogo centrale della città, intorno alla quale la città si riunisce. Perché in quella cultura il punto di riferimento era l'insegnamento della chiesa, che teneva unite tutte le esperienze anche umane e sociali. Intorno alla cattedrale accadevano gli avvenimenti importanti. Di solito vicino alla cattedrale, non è il caso della nostra città, ma a Parma c'è, c'era anche il battistero. Voleva dire che si entrava nella città entrando nella vita della chiesa. Entrare nella vita della chiesa attraverso il battesimo voleva dire entrare nella città. Quindi il genio del luogo cristiano è quello di costruire un luogo che sia un punto di riferimento, un punto unitario, che ospita tutte le situazioni umane e dà unità alla differenza delle situazioni sociali. Perché lì entrava il ricco, entrava il povero. Era un luogo ampio, dignitoso. Si sprecavano anche molti spazi per costruire questo luogo che è la cattedrale, anche molti denari, molte opere. Tutta l'opera d'arte era messa al servizio di questo luogo, perché questo era il luogo di tutti, al servizio di tutti. E tutti passavano attraverso di lì per diventare cittadini, quindi per diventare membri attivi della cultura del momento. E la cattedrale poi si diffondeva, perché da questo centro nascevano le chiese legate alla cattedrale e fino alle nostre colline, alle nostre montagne, cioè alle chiese rurali, e lo vediamo anche adesso. E voleva dire questo, che la chiesa è molto vicina, molto prossima alla gente, ma custodisce sempre un collegamento con un centro. Quindi se prima la cattedrale diceva identità popolare, ma anche identità di popolo, ma anche differenza, perché la differenza derivava da questa presenza del Signore, della singolarità di Dio, adesso il legame della cattedrale con le altre chiese sparse nella città, nel tessuto urbano, dipendenti dalla cattedrale e le chiese rurali, diceva prossimità alla gente, prossimità, molto vicinanza, ma anche qui nella differenza, perché ogni singola comunità aveva la sua personalità, aveva la sua storia, aveva la sua cultura. Quindi diceva vicinanza e nello stesso tempo legame, non un legame con un centro. Quindi in questa distanza che erano le chiese rurali si viveva il collegamento con la chiesa centrale. Questo modello, certamente il modello medievale, è finito, è finito soprattutto con l'illuminismo, quando tra chiese e società cominciano a esserci delle opposizioni. Allora la chiesa cerca di costruire dei monumenti molto grandi per dire sovrasta la città, ma c'è una lotta, una grande lotta. Un esempio è a Parigi, il Sacro Cuore di Montmartre, che sovrasta la città per dire sì, voi avete combattuto la chiesa, la rivoluzione ha combattuto la chiesa, ma la chiesa è ancora significativa, imponente. Questo esprime un momento difficile. Oggi, per esempio, non troviamo più gli alti campanili che fanno da riferimento, che dicono il ritmo della vita della città. Non troviamo più i grandi monumenti, ma quasi la chiesa, come lievito nella massa, si confonde nel tessuto urbano. Eppure mantiene sempre quella differenza che è lo spazio per una più grande ospitalità, quindi per una più grande vicinanza. Sempre la chiesa ha vissuto questo, siamo il faro sul monte, ma siamo anche il lievito nella pasta. Siamo vicini, c'è una grande vicinanza di Dio al suo popolo, del popolo ad ogni persona, ma c'è anche una grande differenza, una singolarità, c'è la trascendenza, c'è questo unico motivo che ci lega e questo crea il collegamento, il legame tra il piccolo e il grande. Questa è la genialità del luogo cristiano che abbiamo tentato di dire nelle sue varie forme, nelle grandi differenze, che sono sempre mobili, ma custodiscono sempre queste tensioni, questi dinamismi.